Il progetto dell'IRIS, insieme alla sottilazione biologica, siamo sempre stati molto attenti da 92-93 in poi a trasformare le nostre cose o a vendere direttamente come facciamo con le denture. 2005, nel frattempo avevamo fatto la pasta, fallisce, sostanzialmente chiude il pastificio che è qui al paese attaccato, dove noi facevamo allora due o tre camion di pasta all'anno, non di più. La cooperativa decide di rilevare, ci diamo tre obiettivi, sono estrati dai famosi quadri, quindi mantenere l'occupazione senza vedere nessun diritto, io ho già detto tante volte a Chiara di trovare il tempo di scrivere il libro su questo passaggio perché ce ne ha intervistare il notale finché è vivo, il direttore del NINCHI che è vivo, perché secondo me sono testimonianze importanti perché si dimostra che l'economia solidale può fare imprese, può fare imprese sociale, può fare imprese sana, dipende tutto, se uno lavora per l'accumulo o se uno lavora per distribuire la ricchezza su qualche territorio. Il pastificio è stato prima risanato coinvolgendo anche i nostri clienti, più che il gas, in questo caso alcuni clienti che arrivano. Abbiamo applicato organizzativamente il modello agricolo dentro l'industria e questo tutt'oggi viene studiato da professori di economia perché per loro è inconcepibile e sostanzialmente abbiamo cercato anche di far capire agli operai che potevano diventare molto importante e quindi abituati all'alienazione, credo. Infatti quelli che sono diventati sottocci sono i più giovani. Molto importante non è stato leso nessun diritto, quindi una fabbrica che chiudeva, che era in difficoltà, non è stata toccata tredicesima, quattordicesima, sono state pagate le ferie arretrate del vecchio padrone, sono stati pagati i debiti all'INPS e da 21 oggi siamo in totale tra Calvatone incide a livello di volume il 40% a livello di fatturato il 25. Quindi sono due dati molto importanti ormai sui variati milioni di euro che crescono devo dire sempre, sempre, sempre. Per noi i gas non sono un mercato, uno ha cominciato a riconvertire, adesso c'è proprio il nostro vicino. Dopo un intervento che abbiamo fatto su una stalla per salvare una famiglia, il nostro vicino un'altra sera è venuto a cena e con la sorella riconvertiranno anche loro l'azienda. Cominciamo a essere così, visti anche dal nostro paese, questo non potete immaginare quanto piacere possa fare, perché con un giusto prezzo, rotando le terre, io dico sempre che un'azienda biologica seria non è un'azienda che applica un disciplinare, è un'azienda che rispetta un disciplinare, ma prima di tutto deve rispettare madre e terra. Quindi sullo stesso appezzamento non deve tornare la stessa cultura per almeno 5 anni. Si devono utilizzare delle tecniche di riconoscenza.